Il 4 marzo è stato il giorno dedicato proprio contro l'obesità, sì a livello proprio mondiale, una giornata mondiale World Obesity Day per l'esattezza, una giornata importante ma che in realtà dovrebbe diventare davvero indicativo a tutti i giorni, soprattutto una giornata fatta di appuntamenti e di eventi. Ma chi ci racconterà questo tema e questo argomento è il mio salotto perché partiamo da dei dati molto immediati. Pensate che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi a livello mondiale, un bambino su tre è obeso a livello europeo, che tu scusa questa è una fotografia dell'Europa, e il 59% degli adulti è obeso, questo appunto per la cosiddetta Regione Europa. Dati similari anche sicuramente nel nostro territorio ma vi presento subito il mio salotto che ovviamente ringrazio. Grazie per essere qui, Simona Midili, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione House di Modena. Grazie. Grazie. Grazie tanto anche a Cecilia Zurlo, Servizio Medicina dello Sport House Modena, tra l'altro dietista e tecnico proprio motorio. Quindi insomma ragazzi, qui si parla di sana alimentazione e di sport. I due, diciamo che le due parole chiave capisaldi, diciamo così, di questo stile di vita corretto, quello che dovrebbe essere uno stile di vita corretto. Sono partita dal 4 di marzo, ovvero World Obesity Day, perché insomma è stato istituito una giornata anche proprio per questo contro l'obesità evidentemente. È un problema molto sentito a livello mondiale, però io ho voluto fare un po' un distingo perché insomma credo che la Regione cosiddetta Europa meriti un'attenzione particolare. I dati da cui sono partita vi risultano? Sì, assolutamente. Diciamo che anche nella nostra Regione, nella nostra provincia ci troviamo di fronte a dati come 4 adulti su 10, 5 anziani su 10 in eccesso di peso e poi parliamo anche di un 15% di obesità. Quando parliamo di eccesso di peso mettiamo insieme sia il sovrappeso che l'obesità. È anche la situazione allarmante nei nostri bambini perché un bambino su 3 è in condizioni di obesità e due bambini su 3 in condizioni di sovrappeso. Questo sia in Regione che in provincia. Da dati che andiamo a rilevare anche direttamente nelle scuole con dei sistemi di sorveglianza nazionali, internazionali. Andiamo proprio a misurare a pesare i bambini nelle scuole, in scuole campione e abbiamo dei dati quindi rilevati e purtroppo la situazione è questa. Ecco, partiamo subito dagli esempi, dagli consigli. Io profitterò nel senso buono ovviamente di voi, della vostra professionalità per cercare di carpire un po' di consigli anche per i nostri telespettatori, per cercare innanzitutto di non dire quella frase la dieta la farò domani perché quel domani non arriva mai, ma partire già oggi a provare pian pianino in modo molto delicato, a cambiare qualcosina delle nostre abitudini, magari appunto ovviamente quelle sbagliate di stile di vita. Allora, quali potrebbero essere per esempio le scelte proprio nel quotidiano che tu ti senti di dare a livello ovviamente di alimentazione per cercare di prevenire questo problema dell'obesità? Sì, intanto come accennavi dieta significa stile di vita, quindi non è non mangiare, ma mangiare in maniera adeguata. Il consiglio che mi sento di dare, che poi l'organizzazione mondiale della sanità, le linee guida ci offrono, è quello di aumentare sicuramente il consumo di frutta e verdura, di cereali preferibilmente integrali e di legumi. Ridurre invece quello che è il nostro consumo di carne, di insaccati e di alimenti molto ricchi di grassi e zuccheri, quindi snack dolci, salati, bevande zuccherate che spesso le bevande non vengono tenute in considerazione come portatori di energia e invece magari si pensa di bere un succo di frutta, di dare il succo di frutta al bambino pensando di sostituirlo alla frutta, ma non è la stessa cosa. Certo, uno dice guarda che bella cosa che ho fatto, il succo di frutta, sono proprio bravi. No, assolutamente no. Il succo di frutta insomma, peraltro, non sono, chiariamolo, poi andranno bene per altre cose insomma, però non sono l'equivalente della frutta. No, 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 perché il privilegio della frutta è quello di avere anche la fibra, un componente fibra che invece nel succo di frutta non c'è. Chiarissimo, quindi insomma aumentare questa tipologia di alimenti, i famosi cinque pasti? I cinque pasti, sì, questi alimenti dovrebbero essere distribuiti in cinque pasti al giorno. In cinque pasti al giorno. Quindi la colazione che è importantissima e purtroppo non sempre i nostri bambini e adolescenti la consumano, ma anche alcuni adulti e uno spuntino di metà mattina che deve essere un po' uno spezzafame per distribuire l'energia nell'arco della giornata, quindi l'ideale sarebbe un frutto, uno yogurt e non quelle merende che a volte troviamo nelle scuole esagerate e molto ricche di grassi e zuccheri. Un pranzo che comprenda un primo, un secondo, la verdura e la frutta sempre. Un altro spuntino nel pomeriggio e a cena equilibrare con quello che non si è consumato a pranzo. Se a pranzo ho mangiato un piatto di pasta ragù, alla sera posso mangiare del pesce, della verdura, un pochino di pane e la frutta. Certo. La regola base è variare. Più si varia e più si riesce a rispettare quelle che sono un po' le indicazioni per una sana alimentazione. Quindi sana alimentazione è ovviamente che va di pari passo con anche una corretta attività fisica. Anche su questo si è espresso l'OMS a livello proprio di dati, di indicazioni, quantomeno sarebbe indicato. Sì, sì. Un'ora di attività fisica. Esatto. Un'ora di attività fisica per i bambini e gli adolescenti, quindi fino ai 17 anni, tutti i giorni. Quindi non c'è domenica fondamentalmente. E il consiglio che viene dato è anche di integrare questa attività fisica con gli esercizi di forza, di rinforzo muscolare, perché questi esercizi vanno a stimolare il tessuto muscolare e quello osseo di un corpo che è in crescita. E un altro consiglio che dà l'OMS, sempre per me molto molto importante, è quello di limitare l'uso degli schermi, perché l'utilizzo degli schermi ad oggi crea un sacco di sedentarietà. Io aggiungerei anche eventualmente di utilizzarlo in modo intelligente. Per esempio, se il mio telefonino, sono un adolescente, l'uso per andare a fare una bella camminata e mi ascolto con le cuffiette e la musica, beh, ben venga anche il telefonino. Insomma, però il problema è che queste diavolerie ci portano via molto tempo, ci captano l'attenzione, quindi guardi il messaggio, vai in internet, stai fermo veramente molto tempo. Quindi limitare il più possibile l'uso degli schermi. Quindi insomma, tu anche prima della nostra diretta si parlava un po' di alcuni esempi pratici. Tu dicevi, non è che si debba pretendere che il ragazzo, adesso parliamo un po' magari dei figli, perché poi voi fra l'altro siete molto specializzate, se non sbaglio voi lavorate, collaborate insieme, dico bene, in un ambulatorio molto importante. Già il nome dice tutto, bambino in forma. E questo poi magari entreremo un po' nello specifico di quello che fate, spiegheremo anche come si può arrivare a voi. Però dicevo, insomma, tu dicevi, magari l'utilizzo del... vabbè, in quel momento devono guardare un gioco, un youtuber che a loro piace sul cellulare, magari che lo facciano facendo un po' di movimento, insomma camminando, ascoltano la musica, ormai hanno sempre gli auricolari. Esatto, quindi l'idea è quella di legare l'utilizzo della scherma eventualmente al movimento, quindi non farlo da seduto e fermi. Quindi anche qui, se appunto voglio vedere un qualcosa su YouTube, utilizzare anche il tapirulan col telefonino, però almeno può essere un motivo per incentivare il movimento. Questo perché? Perché penso che in questa fascia d'età, quindi sotto i 17 anni, sia importante approcciare il movimento in maniera piacevole. Poi anche il resto della vita, fondamentalmente. Però diciamo che da grandi si pensa un po' più al movimento legato alla salute. E nell'età giovanile invece, dai, siamo giovani, cosa serve? Dai, intanto lo farò, lo farò, no? Tende un po' a essere rimandata questa cosa. Invece è importante cominciare anche da giovani a fare del movimento e a fare dell'attività fisica proprio per i propri besti. L'importanza quindi di creare, mettere delle basi. Questo mi porta proprio a chiederti, Simona, un bambino, bambina, obesa, può diventare un adulto in forno, un adulto magro? Sì, diciamo che si tratta, se c'è un'obesità, un sovrappeso in età infantile, questo predispone maggiormente che sia un adulto obeso. Però se c'è un cambiamento dello stile di vita, poi un po' l'obiettivo del nostro ambulatorio, e questo viene perseguito nel tempo, non è detto che sia un adulto obeso. È un po' come la predisposizione genetica, può esserci o non esserci, ma se noi alla predisposizione genetica ci aggiungiamo i fattori ambientali e quindi lo stile di vita, diamo maggiore possibilità che si esprima questa patologia. Quindi aiutarsi, indubbiamente, farsi aiutare anche a volte da quello che è il contesto familiare, no? Perché insomma, credo che parlando ancora una volta di bambini, sia importante il modello, l'esempio che viene dato in famiglia. Assolutamente. Non so, voi vedrete che magari, non so, un bambino pigro spesso è figlio di genitori pigri. Sì, è così. Infatti proprio in questo ambulatorio io sono di consulenza e si parla col bambino, si parla con l'adolescente per cercare di fargli capire quale attività fisica fare, come dicevo prima, quella che gli piace di più, ma ovviamente parliamo anche col genitore, quindi cerchiamo un po' di stimolare anche il genitore ad accompagnare soprattutto il bambino nell'attività quotidiana, che può essere il fine settimana, andiamo a fare una camminata in panaro, tanto per dire, oppure prendiamo la bicicletta e andiamo a fare una bella passeggiata, una bella biciclettata inciclabile. Insomma, cercare con la famiglia di creare quei momenti di attività motoria, di attività fisica insieme, in modo da renderla piacevole, ma per dare un pochino l'esempio anche proprio al piccolo, al cucciolo. Prendiamo in carico tutta la famiglia, perché si possa instaurare un cambiamento delle abitudini alimentari, non possiamo pretendere che un bambino non mangi più qualcosa che si ritrova in casa perché il genitore l'ha acquistato, per esempio, oppure come dicevi, se non ha l'esempio, nessuno mangia verdure in casa, sarà difficile che il bambino si abitui a mangiare della verdura, quindi quello è fondamentale. Quindi con un approccio motivazionale, perché noi non diamo diete, non diamo prescrizioni, ma con un approccio motivazionale si lavora per obiettivi per cambiare questo stile di vita. E questo vale proprio anche per l'attività fisica in realtà, perché come dicevamo anche prima, un ragazzo, un bambino che si approccia al nostro ambulatorio, non posso pretendere che dal giorno dopo faccia tutti i giorni un'ora di attività fisica, tre volte di esercizio strutturato, tolga via il telefonino, è chiaro che va tutto guidato, va tutto fatto in maniera strutturata, in modo che riesca pian pianino il ragazzo e la famiglia ad acquisire queste notizie in maniera graduale, quindi un impatto seguito, molto tranquillo e soprattutto mi viene da dire l'importanza di rivolgersi a dei professionisti. Su questo poi torneremo anche per quanto riguarda il discorso delle diete fai da te, che ogni giorno ne salta fuori una. Prima però di questo, ecco, bambini informa l'ambulatorio dove voi appunto collaborate insieme. Diciamo anche come si accede, anzi diciamolo subito, che se magari qualcuno a casa fosse interessato e a chi è rivolto? Sì, allora si accede tramite l'invio del pediatra di libera scelta, quindi è il pediatra, il regista un po' della situazione. I pediatri sanno che ovviamente c'è l'ambulatorio. Ovviamente hanno avuto una formazione, hanno tutte le indicazioni, ci inviano, ormai siamo partiti nel 2019, siamo al quarto anno di ambulatorio e siamo arrivati quasi a 700 pazienti seguiti. Il pediatra che prova con la famiglia un approccio di cambiamento di vita e ha bisogno di qualcosa di più intensivo, invia al nostro percorso. Abbiamo tre sedi, una per l'area nord su Carpi, con sede presso la medicina dello sport di Carpi, una su Modena presso la medicina dello sport di Modena e una su Maranello presso gli ambulatori della neuropsichiatria infantile. Quindi prima visita va prenotata a CUP con l'impegnativa del medico, è un percorso gratuito, una presa in carico che dura un anno, un anno e mezzo. Quindi un bel impegno che anche voi, insomma, un servizio che date è veramente importante. Sì, sì, perché vanno seguiti, proprio accompagnati in questo cambiamento. Quindi gratuito, il primo accesso, cioè l'input, deve partire tutto dal pediatra. Sì, perfetto. Dopodiché lo prendete in carico voi. Sì, esatto. Ecco, a tal proposito, quali sono, qual è l'approccio che utilizzate di fronte a un bambino, bambina in sovrappeso barra obeso? Perché credo che anche la comunicazione sia importante, ora lo so, lo dico, dico qualcosa forse di banale, di ovvio, però ogni tanto si sente dire che magari il bambino, insomma, possa anche vivere male il suo essere sovrappeso. Forse, non lo so in che età, però dai sette, dagli otto anni iniziano a rendersi conto che fanno dei confronti rispetto magari agli altri coetanei. Ecco, a due anni magari no. Però, quindi, quali sono le parole da utilizzare che voi professionisti usate e che mi permetto di dire, credo, dobbiamo essere molto attenti anche voi, perché non si può far uscire un ragazzino sconvolto o creargli delle paure, delle ansie o delle etichette, no, che magari è entrato e era tranquillo, quindi per intenderci. Quindi per fortuna voi sapete utilizzare il linguaggio giusto. Allora, grazie a voi, io mi permetto di dire, sentiamo un po' per tutti quanti noi quali sono le frasi, anche per i genitori, le parole da utilizzare e quelle invece da non utilizzare di fronte a un bambino in sovrappeso. Sì, diciamo che noi non poniamo mai l'accento sul peso quando arrivano nel nostro ambulatorio. Facciamo più un discorso importante sullo stile di vita e sulla salute, che è ovvio che un bambino fa più fatica a percepire il rischio per la salute, ma noi non diamo importanza al problema peso, magari andiamo più a far vedere i progressi in altezza, non sempre andiamo a dire il peso è migliorato, è peggiorato, lo facciamo magari con i genitori, ma puntiamo più sugli obiettivi di salute, di abitudini che hanno raggiunto. Se un bambino prima non consumava mai la colazione e al primo controllo è riuscito a mangiare qualcosa a colazione, a consumarla più frequentemente, poniamo l'accento su quello. Quindi mai lo stigma, mai parlare di bambino. È importantissimo, sai quello che stai dicendo, è prezioso. Il vostro contributo qui è preziosissimo proprio per, innanzitutto, per avere un approccio in generale nel vedere il bello dei risultati, le cose, gli aspetti positivi, no? Nell'altro e non quelli negativi. Quindi questo è già un esempio che voi ci fate, quindi vi ringrazio. Sì, e anche con i genitori che a volte magari si tende, magari si ha due figli, uno più magro, uno più in carne, allora si tende a fare i paragoni. Invece nel nostro team c'è anche una psicologa in prima visita, quindi si tende proprio a contenere questa modalità e invece a indirizzare su un altro aspetto, che dicevo è quello della salute e dei comportamenti. Noi diciamo sempre piccoli passi, ma che durano nel tempo, piccoli cambiamenti che però poi si portano nel tempo. Quindi un consiglio, questo mi permetto di dire, che possa arrivare veramente a tutti quanti, in generale tutti quanti noi, insomma a partire proprio anche dagli stessi genitori, per poter approcciarsi bene con il bambino. Questo vale anche nell'attività motoria, ovviamente, quando la famiglia e il bambino entrano in un ambulatorio da me, spesso volentieri mi dicono, ma non mi pesi oggi? No, io non peso. Noi oggi parliamo di movimento e cerco di capire. Però se dice questa frase vuol dire che... Gli dà importanza, gli dà importanza. Sì, ma è stato pesato evidentemente. Sì, 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 probabilmente sì, sicuramente. Un controllo è chiaro che viene fatto, ma nel mio caso io... È chiaro che una pesata bisogna darla, per quanto deve rendersi conto da che chilo parte. Ma nel mio caso cerco proprio di alleggerirlo da questo pensiero e parlando dell'attività motoria è quello che gli piace fare. Quindi spesso e volentieri, quando vengono mi dicono, fai qualcosa, no, non faccio niente. Ma cosa ti piacerebbe fare? Judo, calcio, eh? Avresti voglia di provare? Mamma, sei disponibile a portarlo? Perché è chiaro che... Ma sì, allora sul territorio comincio a muovermi, a cercare una palestra vicino alla sua abitazione, insomma, che sia una sostenibile per la famiglia, anche dal punto di vista del spostamento, e lo inviamo in una palestra o un'associazione. Ah, cioè proprio creato il collegamento anche con la palestra. Sì, sì, perché per il ragazzo e soprattutto appunto in età così giovane è importante anche, oltre a fare attività fisica, il lato della socializzazione. Siete bravissimi. Quindi cerchiamo proprio di convincere, di fargli capire, proprio accompagnarli in questo percorso. Sì, sì. Tra l'altro mi piace anche ricordare che il servizio per il quale lavori tu, medicina dello sport nostro, noi siamo regionali, lo dico sempre, però in questo caso è un vanto nostro, possiamo dire di Modena, dico bene. Sì, di Modena. È l'unico a livello nazionale, quindi nazionale, non regionale, nazionale, ad avere una palestra, è vero, adesso lo dico, leggo perché mi hai detto bene tu, palestra dedicata a quella che è un'attività motoria adattata, quindi personale, a persona, quindi insomma su misura. Esatto, infatti siamo la prima medicina dello sport in Italia ad avere una palestra dedicata a questo, il nostro direttore è il dottore Gustavo Savino e in questa palestra chi accogliamo? Noi accogliamo delle persone maggiorenni che hanno avuto una patologia cronica stabilizzata, per esempio post infartuati, ovviamente dopo il periodo di fisioterapia, noi veniamo dopo la fisioterapia, diamo continuità a quello che è la fisioterapia, oppure persone che hanno avuto problemi dismetabolici, problemi di sovrappeso, diabetici, di tipo 2, insomma quelle persone che nel loro vito hanno avuto un piccolo problema, ma anche in questo momento, nel momento in cui entrano nella palestra medicina dello sport, sono stabili clinicamente. Nel momento in cui entrano da noi viene fatta una visita dal punto di vista medico per valutare lo stato di salute, nel momento in cui il medico ci dà l'ok, noi li accogliamo in palestra e facciamo dei test motori iniziali per valutare la persona con dei questionari per capire lo stato di salute, e poi ci vediamo due volte a settimana in palestra per un tot di tempo. Al termine di questo periodo rifacciamo i medesimi test in modo da avere una valutazione iniziale, una valutazione al termine del nostro percorso e poter vedere quali sono stati i cambiamenti effettivi nero su bianco. È chiaro che l'attività motoria non finisce qua, va proseguita per il resto della vita e anche qui cerchiamo di far rete con le palestre sul territorio o con i gruppi di cammino, perché noi siamo anche formatori di Walkie Leader, facciamo ogni tanto un po' di formazione per... Ecco allora chi c'è dietro, tutti i gruppi che vengono qui da noi a raccontare... Esatto, esatto. Ci siete voi dietro? Ebbene sì, e quindi facciamo un invio sul territorio e facciamo un follow up a 6 mesi e 12 in modo da poter supervisionare la persona e rimaniamo a disposizione sia dell'utente sia del collega che accoglie in palestra la persona, perché ovviamente queste persone devono andare nelle palestre dove all'interno ci sono dei colleghi laureati come noi in scienze tecniche dell'attività motoria preventiva ed attata che sanno accogliere queste persone e sanno dargli un proseguo, perché noi al termine del nostro percorso gli lasciamo una lettera dove viene fatto il riassunto di quello che è stato fatto e che vale anche come certificato medico e i colleghi sanno come proseguire il tutto. Cioè non abbiamo scuse ragazzi per essere pigri, inattivi e obesi a qualunque età, perché avete capito c'è un servizio talmente efficiente da un punto di vista dell'alimentazione e dello sport che non abbiamo scuse, punto. Allora Simona, abbiamo detto che c'è anche un po' un altro problemuccio, che questo è un po' diffuso in Italia, un po' il fai da te in generale, no? Mi invento, vado su internet, devo dimagrire, aspetta che mi invento un po', mi invento, vado a cercare una dieta. Ecco, cosa ci puoi dire delle diete fai da te? Allora intanto sono diete di moda e ogni periodo ha la sua più in voga e poi adesso l'utilizzo dei social ha amplificato ancora di più questa prassi. Diciamo che la letteratura, le evidenze scientifiche dimostrano che l'unico modello alimentare sano e che previene le patologie è la dieta mediterranea, per quanto noi come Paesi ci siamo discostati da questo modello. Quindi tutte le altre diete, adesso vengono di moda la chetogenica, piuttosto che quella del gruppo sanguigno, quelle con gli alimenti crudi oppure quelle di moda, non so, quella del minestrone, cioè fatte da un solo alimento o dai cosiddetti superfood. Sono tutte da, insomma, intanto... Cioè il minestrone c'è gente che mangia minestrone tutto il giorno? Sì, quelle che trovi sulle riviste. Ah, sì, no, ma questa mi mancava. Spesso si basano su un tipo di alimento e per due settimane mangio solo quello. Ah, per due settimane? Assolutamente no, perché i danni che possiamo fare al nostro organismo, ma anche la dieta chetogenica, che a livello ospedaliero magari può essere seguita in determinate situazioni sotto stretto controllo medico, magari prima di un intervento per obesità grave, un intervento in chirurgia bariatrica, non va assolutamente fatta con il fai da te, ma bisogna sempre rivolgersi a dei professionisti. E comunque sono diete che puoi seguire per un periodo molto limitato, proprio per non creare danni al tuo organismo. Invece, quello che è il modello alimentare, che veramente è stato provato, su tantissime patologie, e l'ultimo studio anche sulla prevenzione delle demenze, sulla prevenzione del diabete, dell'obesità, delle malattie cardiovascolari, ma soprattutto che anche chi fortunatamente è sano, lo mantiene in salute, è la dieta mediterranea, ma quella vera. Che costa in? Che costa in? Gli alimenti soprattutto di origine vegetale, quindi più frutta, più verdura, più cereali integrali, che dicevo all'inizio, esatto, nessun alimento è escluso nella dieta mediterranea, perché anche la carne è compresa, ma è la frequenza, è la quantità che variano, quindi l'immagine che abbiamo un po' delle piramide alimentari, quindi è la base alimenti che dobbiamo consumare di più, frutta, verdura e cereali integrali, man mano che la piramide si restringe, quelli che dobbiamo consumare meno, quindi carne, quindi fare in modo che la piramide non abbia la punta in giù. No, esatto. Deve essere quella in giù, ma deve essere la classica piramide. Esatto, e attenzione anche al sale, anche questo è un grosso problema di salute pubblica. Si, hai ragione, che se ne parla forse non tantissimo. Tra l'altro di solito a marzo c'è la settimana mondiale dedicata alla riduzione del consumo di sale, è stata posticipata a maggio, però è un grosso problema perché noi italiani consumiamo il doppio del sale, che è presente in alimenti che noi non penseremo, non pensiamo solo al sale che aggiungiamo, ma anche a quello degli alimenti confezionati. Come un po' lo zucchero, come un po' lo zucchero. va al coppaino di zucchero, ma non è, quello sarebbe almeno forse. Si, si, tutto quello che c'è nei prodotti confezionati. Quindi mi sembra di capire che la grande promossa è la dieta mediterranea. Assolutamente, si. Che probabilmente, hai spiegato, va bene a tutti. A tutti. A tutti. Cioè non ha... Dai bambini agli adulti cambiano le quantità, ma la frequenza e la varietà dettate dalla dieta mediterranea vanno bene a tutti. Ah, chiarissimo. Insomma, allora, un servizio il vostro, quello che voi fate costantemente, sia nel ambulatorio bambino in fora, ma in generale, con la palestra, per esempio, dedicata proprio all'attività sportiva, eccetera, costante. Quindi, i modi, dicevo prima, insomma, ce li abbiamo, ci sono per... Cerchiamo di... Ecco, tra l'altro, altro aspetto importante, invenutivamente, nel dire, cerchiamo di trasmettere sempre più informazioni. Cosa che voi fate? immagino già anche all'interno delle scuole, insomma, perché ci sono tanti sul territorio, tanta attenzione, addirittura c'è un progetto dedicato ai primi mille anni... I primi mille giorni di vita, esatto. Mille anni, altro che dinosauri, mille giorni di vita dei bambini. Mille... Io l'ho letto prima, mille giorni di vita, ma quindi già l'inizio è importantissimo. Già prima del... Sarebbe già prima del concepimento, la gravidanza, l'allattamento, i primi tre anni di vita, assolutamente, lì si gettano le basi. Infatti, proprio... Utile per la prevenzione all'obesità? Sì. Addirittura? Sì, sì, sì. Perché è lì che iniziano un po' le abitudini, ma c'è il genitore anche più, come dire, più predisposto a fare dei cambiamenti. Infatti, con i centri per le famiglie, con i consultori, facciamo degli incontri tematici, proprio per aiutare i genitori a capire quali sono le scelte giuste sull'alimentazione, per prevenire. E noi come Medicina dello Sport anche siamo la sede del Centro Regionale Antidoping e entriamo nelle scuole in prevenzione. Quindi proprio in questo periodo noi stiamo andando nelle scuole superiori, che hanno fatto richiesta attraverso il portale di Positivo alla Salute e andiamo ad informare i ragazzi del perché muoversi, del perché già ad oggi è bene spendere questa moneta per investire nel loro futuro. Perché viene dato un po' per scontato, ma sì, ma i giovani intanto del movimento ne fa, dell'attività sportiva ne fa. In realtà non è così. In realtà l'adolescente, spesso e volentieri, si è visto, abbandona lo sport e rimane un po' sospeso. Ecco che noi cerchiamo proprio di dare le giuste informazioni per aiutarlo un pochino ad avere quella mente critica per stimolarlo al movimento e fargli capire che effettivamente è importante per la sua salute oggi. E anche lì cerchiamo di dargli alcuni consigli su cosa fare e come farlo fondamentalmente. Ma quello che diciamo sempre è che la cosa importante è affidarsi a delle persone, a degli specialisti competenti. Perché, come dico sempre, io non alleno soltanto muscoli e ossa, io alleno la persona e il lato emotivo della persona. quindi la persona quando si allena e quando fa uno sport deve star bene fondamentalmente. Quindi c'è bisogno di un professionista che lo possa seguire, assolutamente. Ovviamente poi c'è tutta l'attività un po' più ludica che può essere la camminata, può essere la bicicletta, insomma può essere quel momento di attività al di fuori anche della palestra che ciascuno di noi si può creare. E a volte, io suggerisco anche quelle camminate anche agli adolescenti perché è un momento magico per me la camminata, è un momento dove ci si racconta e dove hai il momento di ascoltare gli altri mentre ti muovi, mentre cammini. Quindi è un momento in realtà di magia che, perché no, fatto in compagnia è bello. Tu dici per stare anche un po' a tornare un po' con se stessi e con gli altri, magari appunto raccontandoci ancora una volta uscendo un pochino da questo mondo così tanto virtuale dei social, che va bene, però insomma prendiamolo un po' con le pinze. Ovviamente te la chiedo perché se lo chiederanno a casa, tu sarai una sportiva? Eh sì, è bene sì. Il mio sport è stato, è la mia vita, io ho sempre fatto judo, ho fatto anche altri sport nel frattempo, ma il mio sport è il judo. Io l'ho amato e lo amo tuttora. So che hai fatto circa più di 30 anni di judo. Sì, ho fatto 35 anni di judo e è la mia passione. Le mie figlie non fanno judo, fanno un altro sport, fanno ginnastica artistica. Ovviamente però fanno sport. Ovviamente fanno sport, ovviamente siamo sempre un po' tutti in movimento, ma è proprio, è una passione per me. e quindi mi piace il mio lavoro e mi piace trasmettere queste informazioni perché effettivamente, insomma, ad oggi ormai nero su bianco il movimento, poi siamo stati creati noi per muoverci, noi siamo stati concepiti per andare a caccia. E oggi, è ovvio che no, che oggi non andiamo più a caccia. Andiamo al supermercato, compriamo i nostri alimenti, a volte, e da qui comincia un po' di sbilanciamento perché addirittura se ci pensiamo non andiamo neanche più al supermercato, ci facciamo arrivare direttamente la spesa a casa e questo disequilibrio tra quello che introduciamo e il poco movimento comincia a farsi sentire e poi si vede, insomma, e crea obesità. Quindi dobbiamo un po' essere bravi a regolarizzare questa bilancia, ecco. Chiarissimo, anche perché sempre dei dati dell'OMS, OMS, 13% risulta sempre in Europa l'obesità come causa di mortalità. Sì, sì. Cioè, è un dato importante questo, cioè, oltre a tutto quello che è l'aspetto importante del stile di vita, di mantenersi bene, mantenersi in forma, qui parliamo anche di mortalità. Sì, mortalità e qualità della vita, anni persi in qualità di vita, ma non solo l'obesità, anche tanti altri fattori come le dislipidemie, quindi il colesterolo alto, l'ipertensione arteriosa, cioè i primi, dopo il fumo di tabacco, gli altri primi cinque fattori di mortalità, a cause di mortalità e di malattia in Europa sono dovute, sono legati all'alimentazione e all'attività fisica. Quindi rientrano fra i fattori di rischio. Sì, esatto. Quello che però possiamo fare, come diceva Cecilia, veramente noi tutti i giorni dobbiamo scegliere cosa mangiare e se muoverci, se fare quel tratto di strada a piedi o prendere l'auto, quindi sono scelte quotidiane, quindi davvero possiamo fare la differenza ogni giorno. Poi noi ci rendiamo anche conto che chiedere o parlare di sano stile di vita non sia facile perché insomma devi avere un comportamento e ti devi impegnare per quel tipo di comportamento. Però è vero anche che siamo umani, è vero anche che abbiamo i nostri momenti di fragilità, ma come dico sempre l'importante è ricominciare. Quindi il momento di fragilità ci sta, il momento che magari mangiamo peggio o facciamo meno movimento nella nostra vita può succedere, l'importante è ripartire. la recuperiamo magari il giorno dopo quindi insomma stare un pochino con se stessi attenti a quello che si sta facendo sul pezzo insomma, vivere in quel momento e cercare davvero di capire la scelta che si sta facendo. Grazie, grazie davvero ragazze per quello che fate. Grazie a voi. Grazie a voi.